Oggi in Italia il problema dei disturbi uditivi è molto diffuso e in quest'ambito che si inserisce il progetto Amplifon ci sentiamo dopo proprio per sensibilizzare i più giovani all'abitudine all'ascolto consapevole l'udito è uno dei sensi più importanti ci mette in comunicazione con il mondo ho avuto l'opportunità di partecipare ad una tappa di ci sentiamo dopo e parlare davanti a tanti studenti per poter spiegare loro l'importanza dell'ascolto da sound designer portare questo messaggio di consapevolezza di tutto ciò che ci circonda e di perché il rumore intorno a noi è così importante e il rumore per me è una sfida grandissima lo abbiamo fatto con la fil insieme ad alcuni colleghi musicisti diciamo che anche i suoni hanno hanno una loro forma siamo circondati i suoni ma manca spesso diciamo un ascolto attento e se vogliamo anche responsabile la reazione dei miei studenti è stata di grandissimo entusiasmo ho capito che l'ascolto e l'udito sono davvero fondamentali per vivere bene e relazionarsi al meglio con le persone il progetto ci sentiamo dopo è stato inatteso è stato è stata una sorpresa parlare di suoni e parlare di come ascoltarli importantissimo mi piacerebbe descrivere il progetto con un'unica parola ovvero sensibilità e questa sensibilità passa attraverso l'ascolto